C'è, guardate, guarda questa partita Mosi, deve disconnettere il controller ovviamente Ok, controllo se si sta caricando, sì No Ok Guardate questa partita No, aspetta però, devo mettere le impostazioni qua dei danni Ok Andiamo un po' indietro No Ok Non va Ok Ok, questo Ok Questa è la prima kill No, c'è il bello, eh Non è una semplice partita con 6 kill Ah, e poi stavo giocando col controller Se noti la, a destra C'è il coso della mappa Oddio, ho svegliato Sto giocando col controller E te lo può dire anche Pascal, te lo giuro che stavo giocando col controller Sennò non costruirei come ho costruito in questa partita Adesso ti faccio vedere C'era uno pro che ho killato alla fine Che Praticamente mi voleva uccidere Mi è successa una cosa strana Ora capirò Ora capirò Questo qua ha messo la trappola sotto Comenta un po' la partita Allora, ho messo la trappola sotto Ok Io qua Volevo Spararlo Però ho sbagliato Ho preso il muro Li volevo distruggere la scala Ho sparato un colpo di AK Ho distrutto la scala Stava là quello A un certo punto mi sono messo a distruggere la trappola Senza la possibilità che lui mi potesse prendere Ok Adesso l'ho visto là Questa va là E mi è venuto da dietro A un certo punto gli ho fatto ledshot Qua c'era l'aereo Io non volevo Velocizziamo questa parte Qua c'era l'aereo Io me ne sono andato Qua se non mi vedeva l'aereo Sbaglio Ho qua distrutto l'albero Ok qua Già c'avevo 2 kill Mi sono messo a Per fare un po' di materiali Non so perché mi ho sparato a casa Qua sono Qua stavo prendendo Un bel po' di materiali Dopo arrivo in questa casa Dove c'era un altro aereo Ora c'è l'effetto Quello là Qua stavo prendendo 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 Vabbè c'è il rumore Ho deciso di spararlo E poi ho fatto una L'ho provato a sparare con l'aereo Che c'era un tizio Ma poi è scomparso non capisco perché Ok Qua possiamo anche un po' velocizzare Qua stavo aspettando A un certo punto arriva un momento dove voglio Pushare e qua li faccio un po' così danno Arriva un momento dove voglio un po' pushare Quindi vado a pushare Qua sparo nel tempo E qua vado a pushare Qua l'ho colpito Qua Ho fatto 100 Alla prossima Ok, qua Gli hanno fatto tantissimi errori A un certo punto vado e lo killo Ok Qua mi fermo un po' a lutare A un certo punto quello viene a spararmi Stava col palloncino Io lo vedo con il palloncino A un certo punto me ne vado di sotto Che vedo che c'era un buco Prendo le M16 E incomincio a spararlo E lo uccido Ok, qua c'aveva lo scar silenziato Adesso viene il bello però Ho fatto una cecchinata pazzesca Quello c'aveva il pompa nuovo? Mi sa di sì Oddio Oddio Mi sa che c'avevo il pompa nuovo E non me ne sono accorto Credo Ora quando ci andrò Vedremo Qua mi accorgo della safe E me ne scappo Prendo il caccia qua Incomincio a sparare l'aereo Poi dopo prendo il caccia Sparo Non lo prendo Sparo Lo prendo 215 in headshot Questo me lo ricordo bene E cade tutto il loot Io qua Ero euforico Cioè voi non avete Voi non avete capito Che cecchinata ho fatto Era su un aereo Cioè Sulla aereo era Cioè Rivediamo Di nuovo Arrivò qua la cecchinata Epica Sparo Boom Boom No Boom No Vabbè Contiamo che ho sparato Scusa ma era no scope Quelli faccio 215 Raga voi non avete capito Era una cecchinata Da 215 Headshot Ora li cade tutto il loot Mi prendo il pompa nuovo Ecco mi prendo il pompa nuovo E mi prendo la scar Dopo Avevo lo shieldone E ne killo un altro Che aveva il lanciaraggi Qua c'avevo 4 kill Quindi vedremo Altro 2 kill Ok Cogero un altro kill E mi prendo il pompa nuovo Leggendario E il lanciaraggi Al posto delle bende Ecco mi accorgo Della tempesta Che stava per arrivare E quindi vado in safe Cerchiamo di aggiustare un po' Questo rumore Facciamo tipo così Dove fare il caricamento Ok Almeno se è giusto il rumore Qua non riuscivo a salire Non capisco perché A un certo punto Faccio il pavimento Vabbè Questi sono dettagli Poi Qua me ne salgo Per andare in safe E un tè qua Cambio materiale Perché non voglio Non voglio tenere il mattone Qua Stavano due tizi Che fightavano là Che figtavano E io decido di pusharli E questo è il mio errore Più grande Scusa ma Ah no Niente No Non è niente È qualcosa Io ho fatto 6 kg Non 5 Io 6 kg L'ho fatto Non 5 Qua ci muoio Però Qua li faccio malissimo Non sto laggando Li faccio malissimo E mi uccide Io In questo momento Stavo Sclerando tipo troppo Vabbè Ma Cioè io c'avevo 6 kg 1 2 3 4 No 1 2 3 4 5 6 Proviamo a tenere così Ok Mi ha dato la terza kill Velocizziamo tutto Questo mi sparava Ok 6 kg Cioè Non ha senso Vabbè Quindi C'ho 6 kg Bene Sì 6 kg Adesso crepo Male Vabbè E' tutto Ciao